Della stagione Allora ebbene a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Non so perchè sono problematici Ehm vabbè comunque Se vi siete persi il video dove In Lia Facevo lo scherzo A loro due Cioè lui Si lui stava cadendo lì L'abbè registrato circa due minuti fa E anche quello prima prima Che era sempre con loro due Che abbiamo fatto il tour della mia stanza Vabbè ragazzi Che volevo dire subito Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina E mettere almeno 10 like Un po' di like vabbè Comunque non perdiamoci in chiacchiere E devi iniziare il tour Del mio giardino Praticamente noi dobbiamo fare tutto il giro Il giro che hanno fatto loro per fare la passeggiata Iniziamo da qui Allora qui c'è la tenda Che si entra Dentro casa Guardate La mia stanza La mia stanza E' questa Nel video scorso l'ho fatta vedere No Due video vanno l'ho fatta vedere Vabbè Non c'è Eh mio nonna Poi mio nonna ha sparato una di quelle pronte Che in realtà io una volta l'ho fatta il doppio grosso Però vabbè Allora qui Passiamo Passiamo col giardino Allora iniziamo qui Allora andiamo Andiamo avanti Non so se si vedrà bene in questo video Perché c'è c'è un bel sole Guardate E' pieno di piante E lì ci sono tante foglie Non sono sessi ma sono foglie E io invece Stavo di Di te Cadendo Lì c'è sempre la mia macchina Famosa Che in realtà non è famosa Perché non ho fatto mezza visualizzazione E vabbè Qui C'è tutto Il giardino Una volta il cane del mio amico Ha cagato Dove vi sto In Grandenda adesso Là Vicino al muro Hanno usato questo fiorellino Che puzza Infatti Però Dai ma pure nel video Ha cagato lì Il cane di Guglielmo C'è il mio amico Che c'era nel video scorso Sempre mi piace Allora Qui c'è Il Giardino Un altro tipo di giardino Con Un pero Che c'è sempre il pero Aspettate Andiamo a vedere Venite Eccolo lì Il fiore Ok ragazzi Vabbè Lasciamoli stare Lì c'è una bici Lì ci sono le nostre Biciclette C'è in realtà Quella Sua Quella Sua E la mia Non so dove Il cappero Si è infilata Eccola lì Eccola lì La mia Aspettate Eccola Quella lì Grigio E' quella che usa Mia cugina Vabbè ragazzi Adesso guardate C'è il pozzo Lì Anzi Non mi ho fatto Vedere Tipo Questo Tipo Canaletto Così Se puoi Il mangiare Si Stavo per cadere E vabbè Lì Lì c'è un altro Canaletto E qui Un altro Giardino Con una pianta Che non so di che cosa Scrivetelo voi Nei commenti Nessuno A fare che cosa Vabbè Invece qui c'è il trampolino Per scendere E salire Se ti levi Ok ragazzi E noi Abbiamo iniziato Il video Lì Se Se pensate Che lì C'è tipo Una buca Non c'è niente Non c'è un cappero Di niente Qui Questa cosa qui Non è un cappero Di niente Lì Non è un cappero Di niente Vabbè ragazzi Questo video Finisce qua E Eccoli Così Non è caduto Dentro la macchia Di erba Eh vi mancava La mia faccia Probabilmente Registrerò Uno o due video Al giorno E invece Tipo Salto Uno o due giorni Di recupero Tipo Dopo poco Certo La tua ciabatta Si flippa sempre Guardate la mia Si flippata E va boh dai Uno due tre Quattro E va boh dai E' 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 E'